Domenica 22 maggio a Teramo si svolgerà la settima edizione di Teramo in Fiore. Dalle 8 alle 20 coinvolto il centro storico in Piazza Martiri in particolare saranno i fiori. Sì, questa è una fiera che dedichiamo soprattutto ai fiori, quindi Piazza Martiri sarà completamente dedicata ai fiori. Poi occuperemo una parte di Corso San Giorgio con i prodotti tipici e con l'artigianato per via Vescovado. Quindi è una delle fiere più piccole ma più specializzate che facciamo in centro storico e tra le più belle perché comunque l'offerta di florovivaistica su Piazza Martiri è sempre un bel colpo d'occhio. Quanti saranno gli espositori? Allora, gli espositori dovrebbero essere non moltissimi su questa fiera, credo una cinquantina di espositori al massimo proprio perché si concentra soprattutto su Piazza Martiri ed è molto caratterizzata dai prodotti tipici, dai fiori e dal piccolo artigianato. Quindi diciamo che è una delle fiere più piccole che realizziamo a Teramo, però la qualità è medio alta rispetto in genere alle altre fiere dove abbiamo tantissimi espositori e quindi dopo a livello merceologico c'è una differenza sotto l'aspetto della quantità di merci che si possono acquistare. L'orario è come diciamo dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera? Sì esatto, come tutte le fiere saranno in centro per tutta la giornata. Grazie. 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 Grazie.